Il mimetismo è la loro arma vincente. Quest'oggi andremo a Egin, la caccia dei fantasmi del mare. Benvenuti su Monster Zone, che la caccia abbia inizio. Oggi andremo a caccia dei fantasmi e con la nostra attrezzatura non solo li avvisteremo, ma tenteremo anche la loro cattura. Questa è l'attrezzatura per i fantasmi. Venite con me. Cosa sta? Armando, hai sentito? Hai sentito quella voce? Sì, sì, l'ho sentita. Da dove veniva? Proprio in questo momento, la videocamera di Armando registra questa voce in corporea. Disgrazie, tu me l'ha detto! Disgrazie, tu me l'ha detto! Adesso tenteremo di provocarli. Signor Calamaro! Hai paura? Di finire un arredino? È stato qui dove si è impiccato? Qui? Qui ho ucciso tutti quei poveretti? Tutte quelle salpette? Tutti quei pesciolini? E qui? Ci è consumato l'omicidio? Oh mio Dio! E qui? Oh mia! Grazie a tutti. Grazie a tutti.